Ciao bambini, rieccoci nuovamente all'appuntamento settimanale con le IRC. Oggi vi leggerò il racconto pasquale più bello e significativo, come vi avevo anticipato lunedì scorso. Gesù è stato messo in croce e dopo molte sofferenze è morto. Il brano del Vangelo di oggi invece è il brano della vita e della speranza. Ascoltiamolo attentamente. La ressurrezione di Gesù. Venuta ormai la sera, la vigilia del sabato, Giuseppe di Arimatea, un amico di Gesù, andò con coraggio dal governatore Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo che aveva comprato e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Iose, si stavano ad osservare dove veniva posto il corpo di Gesù. Passato il sabato di buon mattino, Maria di Magdala e Maria, madre di Giacomo, dopo aver comprato oli aromatici, andarono al sepolcro ad ungere il corpo di Gesù. Dicevano tra loro, chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Ma alzando lo sguardo, videro che la pietra, che era piuttosto grande, era già stata fatta rotolare. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra vestito con una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro, non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro. Ecco bambini, come avete sentito? Alcune amiche di Gesù, il giorno dopo la sua morte, si sono recate al sepolcro per andare a pregare, ma arrivate al sepolcro lo hanno trovato vuoto. Vicino al suo ingresso però c'era qualcuno. Un angelo che dice loro, non abbiate paura, Gesù non è qui, è risorto. Allora, non dobbiamo essere più tristi per la sua morte. Lui è risorto, è rinato a nuova vita. Perché, come ha detto Papa Francesco durante la messa ieri, si vive veramente quando si dà la vita. Questa è la cosa più bella che Gesù ha fatto per noi, dare la sua vita per tutti quanti noi. Gesù apparirà molte volte sui amici apostoli, che inizialmente faranno fatica a credere sia veramente lui, ma poi la fede li aiuterà. L'attività di oggi, bambini, consiste nel riprodurre graficamente l'ultimo simbolo pasquale. Nelle scorse settimane avete decorato l'olivo, il pane e il vino, la croce. Oggi invece realizzeremo il sepolcro, che le amiche di Gesù hanno trovato vuoto, dopo che Gesù appunto è risorto. Quindi ci servono un foglio a quattro bianco, gli acquarelli e un po' di acqua. Prima di tutto svegliamo il colore. Prendiamo l'azzurro per fare il cielo ed il colore verde per fare l'erba. Finché aspettiamo che cielo ed erba si asciugano, possiamo colorare o realizzare il sepolcro. Io ho utilizzato una borsa della spesa che avevo in casa, dalla quale ho ritagliato il foglio che è poi diventato il mio sepolcro. Dopo che avete terminato il sepolcro, potete incollarlo sul foglio e completare il lavoro con matite colorate o penarelli, disegnando l'angelo, le amiche di Gesù o quello che più vi piace. Ok? Buon lavoro! A presto! Maestra Rianna